Vogliamo il suo parere, come si vive questo momento di Covid-19 per la città, per le famiglie e per la nostra terra? Credo che sia un momento difficilissimo perché siamo passati dalla paura fortissima di contrarre il virus che ancora rimane parzialmente alla paura di un domani che non sapremo gestire dal punto di vista economico. Se a questo aggiungiamo che proprio nella nostra zona, che non dimentichiamo, ci dati ci dicono che è la provincia più povera d'Italia, si viveva tantissimo di turismo e soprattutto di enogastronomia. Due settori che sono in crisi totale, in tutta la Sicilia si parla per il mese di aprile e per il mese di maggio di disdette al 100%, quindi credo che questo cambierà il nostro modo di vivere. A questo dobbiamo aggiungere la nostra quotidianità, il fatto che siamo costretti a vivere chiusi in casa, davanti a uno schermo e questo vale per tutta la famiglia, una coabitazione forzata, quindi un nervosismo, uno stress che si aggiunge. È un'esperienza che nessuno di noi avrebbe mai voluto fare ed è un'esperienza da cui non sappiamo come ne usciremo quando finalmente usciremo da questo tunnel, perché il fatto che riprenderemo pian piano la nostra vita fuori da casa non significa che riprenderemo la nostra vita normale. Ecco, si vive un momento di paura nelle persone. Sì, anche i dati statistici, molte ricerche anche di tipo sociologico che sono state fatte sull'impatto di Covid sulla società confermano proprio questo. La nostra è una società che già prima del virus aveva paura, perché era una società che aveva paura dei migranti, era una società che aveva paura del diverso, era una società che aveva paura di un'economia che era comunque un'economia fragile. Oggi ha una nuova paura che è determinata da un virus killer che non conosciamo e che non riusciamo a combattere se non con delle forme di piccola prevenzione, il distanziamento, la mascherina, i guanti, che sono delle cose che non risolvono il problema. Quindi diciamo che quello che è mancato in questo momento è stata una risposta fortissima della scienza che non è riuscita a dare, nonostante le tante risorse che sono state impegnate, un vaccino per riuscire ad annullare questo Covid. La coabitazione forzata in questi momenti sta creando anche delle problematiche tra le persone e all'interno della famiglia. Se noi dovessimo giudicare da come sono andate le cose in Cina, pensiamo a quello che è successo proprio nella città di Wuhan dove è scoppiato il focolaio più importante, da quando la vita è ripresa tantissime persone hanno deciso di recarsi allo sportello per fare la pratica di separazione. Quindi evidentemente la coabitazione forzata ha riacceso all'interno delle famiglie delle fiammelle che potevano essere spente. Il consiglio che danno gli esperti in questo momento è di evitare, anche per evitare episodi di violenza domestica, di violenza sulle donne, di evitare qualunque tipo di scontro e di rimandare tutto a quando la vita avrà un minimo di normalità.